Poi vi spieghiamo perché ci sono queste indicazioni verso il batterista, lo diciamo dopo però. Lo scoprirete solo vivendo, come diceva la battista, scopriremo solo vivendo. L'abbiamo fatto l'applauso più grande a Torre Pes, al batterista? No! Lo scoprirete solo vivendo, mi ricordi la tua età per favore? Come? 15 dice. 15 anni ad alto.